È stata un'esperienza bellissima perché innanzitutto io sono un grande amante della satira, della stand-up comedy quindi già solo il fatto di essere premiato in una sala che si chiama BDX, che è uno dei miei stand-up comedy preferiti, è stato bellissimo Penso che come manifestazione sia riuscita veramente bene, io ovviamente il primo anno che sono riuscito ad esserci però ho conto di tornare, spero di tornare. La premiazione, vabbè, con il senatore Razzi è stato qualcosa ho toccato uno dei punti più alti della mia vita anche perché non me lo sarei proprio mai aspettato e sono contento di aver visto comunque al di là di tutta l'ironia che lui si trascina dietro il fatto che si tratta di una persona che sta sempre al gioco, che questo è sicuramente uno dei punti cardini della satira Per quanto riguarda fotografi e segnanti, ovviamente non avrei mai detto che sarei stato qua dopo sei mesi dalla sua creazione a ritirare un premio e onestamente sono orgogliosissimo di questo e il ringraziamento va anche ai ragazzi che mi aiutano e fanno la maggior parte del lavoro che sono Ragav, Nicolò, Giacomo e tutti gli altri La cosa più importante secondo me è mandare sempre un messaggio positivo in un mondo in cui è sempre più difficile è difficile sorridere e io penso che fotografie e segnanti con una sorta di cultura barra ironia, barra satira riesca a fare questa cosa e quindi niente, sono letteralmente contento di aver partecipato a questa cosa qua Prego